Siamo a Maniace, alle mie spalle una struttura abbandonata da tempo, qui doveva sorgere una casa di riposo, il terreno di proprietà dell'ASP, uno stato di abbandono e degrado come documentano anche le immagini che abbiamo raccolto. In tal senso si esprime anche il sindaco di Maniace, Franco Parasiliti Parracello, che chiede proprio all'ASP la cessione al comune del terreno e della struttura per poter provare a cercare qualche finanziamento, insomma tentare una riqualificazione dell'aria. Sentiamo proprio le parole del primo cittadino. Quest'opera è stata costruita credo in 1985-86, di cui ero sindaco. Abbiamo voluto questa struttura, perché è un posto guabellissimo come avete visto. Attorno a questa struttura c'è un ettore di terreno che potrebbe essere abbellito, migliorato e così via. Dopodiché, negli anni successivi, in sostanza questa opera è stata abbandonata totalmente e, come vediamo, sono rimaste solamente le mura. Hanno rubato tutto perché non c'era controllo, non c'è stato più interessamento. In sostanza, in tutti questi anni nessuno si è occupato. Io, qualche sei mesi fa, ho fatto richiesta all'ASP che questo terreno e quest'opera venga assegnata al comune di Maniace, perché sono sicuro l'ASP, con tutti i problemi che ha nella sanità, difficilmente si occuperà di questa situazione. E allora, io cosa voglio fare? Eventualmente fare un progetto di ristrutturazione. Ma non solo questo, non è che dobbiamo fare per forza l'ospedale. Come vedete qua può nascere anche un bellissimo agriturismo e dare lavoro a tanti giovani. Abbiamo l'istruttura del Brachiera a Maniace, in cui tanti giovani possono venire a lavorare qua sopra. E non solo l'innotto, le provole, il formaggio, la ricotta, la frutta, gli ortaggi, che potrebbero confluire in questa bellissima zona. Se vedete qua ci saranno almeno 100 posti letto, non è una cosa da scherzare. È una cosa che noi stiamo prendendo sul serio e vogliamo portare a compimento. Non è possibile che dopo circa 30 anni e passa che quest'opera venga buttata giù e non fa niente. Si può anche recuperare, perché parlando con gli ingegneri la struttura fissa è buona, è ottima. Bisogna completarla, fare un progetto. E io secondo me si può fare anche, come dicevo prima, un bellissimo agriturismo. Visto che siamo sui neppriti, vedete qua accanto, siamo immersi nella natura. Qua c'è la pace, qua c'è la vera pace. Ricordiamo che infatti c'è anche un terreno di un'estensione abbastanza considerevole. Circa un ettoro, un ettoro di terreno. E se serve possiamo prendere altro. Ma un ettoro io penso se verrà sistemata, abbellita, fiori, piante. Diciamo che questo potrebbe essere un fiore all'occhiello per Maniaci. E dare lavoro a tanti giovani che oggi purtroppo, quando finiscono la scuola alberghiera, debbono emicare da Maniaci e andare altrove a lavorare. Grazie a tutti.